Sì, sono un betta, vai! Io spero vivamente che i furgoni qua e i pulmini siano i nostri, perché io indietro... Sto parlando! Io non ci torno indietro, ho una visione! Mi è venuto da tenuto a prendere! Ero male! What's the name di... Ero male! Ero male! Ma non stai capendo niente, amore! Ma quando mai? E' definita così! Medaglia per il più coraggioso di tutti! Ciao! Grazie a tutti